E' morta ieri sera, poco dopo alle 21 all'ospedale di Circolo di Varese, la donna di 49 anni, Valeria Porcaro, vittima di un grave incidente stradale nella pomeriggio di ieri in Viale Monterosa, a Casbeno, nella zona dell'ambulatorio dell'ospedale. Poco prima delle 17 era stata travolta da una furgone ed era rimasta intrappolata sotto il mezzo. La donna era un medico, lavorava in Svizzera ed era residente a Brinzio. Intanto è stata chiarita la dinamica dell'incidente. Valeria Porcaro era vicina alla propria auto parcheggiata sul lato della strada. Il conducente del furgone, fermatosi pochi metri più avanti, non l'ha vista e ha innestato la retromarcia, provocando involontariamente l'irreparabile. E' un suo punto di questa notizia che ci lascia piuttosto amareggiati perché era una coppia che si era stabilita da pochi anni a Brinzio, aveva costruito anche una bella casetta, si erano sposati e francamente si è rimasti abbastanza scioccati perché poi la fine che ha fatto mi sembra veramente strana, molto strana. Una cosa che succede così lascia sempre la mano in bocca. Mi spiace proprio e anche per il marito che adesso si troverà lì da solo.